Ame Maria, mi ringrazio, il Signore è contento, tu sei benedetta tra le donne, mi benedetta il tuo Signore, il tuo Signore è contento. Ame Maria, mi ringrazio, il Signore è contento, tu sei benedetta tra le donne, mi benedetta il tuo Signore, il tuo Signore è contento, tu sei benedetta tra le donne, mi benedetta il tuo Signore, il tuo Signore è contento. Ame Maria, mi ringrazio, il tuo Signore è contento, tu sei benedetta tra le donne, mi benedetta il tuo Signore, il tuo Signore è contento, tu sei benedetta tra le donne, mi benedetta il tuo Signore. e benedetto e benedetto e benedetto e benedetto e benedetto e benedetto a vivere gli affine di gran e benedetto e benedetto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amén.